buongiorno ragazzi questo video è totalmente dedicato a un ex calciatore della juve io non ho capito cosa sia successo a questo ragazzo purtroppo ieri ha dato l'ennesima dimostrazione di essere un ex calciatore io non so perché continua a giocare a calcio perché ormai non è più il suo mestiere dovrebbe cambiare mestiere perché non è il suo mestiere salvo poi sentire allegri che ha detto che è tornata ai suoi livelli quindi stendiamo un velo pietoso sulle dichiarazioni di allegri comunque quello che ha fatto ieri al centoventesimo alexandro è una roba che non la può spiegare nessuno non si può spiegare un gesto tecnico di questi in mezzo all'area di rigore all'ultimo secondo di una partita tirata 120 minuti quindi d'ora in avanti quando tu vorrai dire a un giocatore sei scarso gli dirai sei come alexandro ecco alexandro ormai è diventato questo il giocatore scarso per antonomasio fine non c'è nient'altro da dire